Un infarto sarebbe questa la causa della morte di Matteo Garbisi, una verità che la famiglia, che non avendo più notizie aveva presentato denuncia di scomparsa, ha scoperto solo dopo 40 giorni. Padovano di origine, Matteo Garbisi, da qualche anno si era trasferito a Playa del Carmen, in Messico. Da circa un mese il 45enne responsabile delle risorse umane in un'azienda non dava più notizie di sé. Per questo la madre aveva asporto denunce ai carabinieri di Prato della Valle. Nella giornata di ieri le autorità messicane hanno trovato un corpo senza vita che corrisponderebbe a quello del 45enne. Per il riconoscimento, a breve potrebbe volare in Messico il fratello in costante contatto con l'ambasciata italiana.